Il distretto retino vanta da pochi giorni il primato di avere ben due aziende tra le 16 accreditate a livello mondiale per raffinare il rodio in spugna. Si tratta di Chimet e TCA che hanno ricevuto l'ok dell'organo di settore, il London Platinum and Palladium Market che garantisce i più rigorosi ed elevati standard di qualità dei metalli preziosi. Il nostro è un distretto di cui bisogna essere orgogliosi, quindi Chimet naturalmente anche come dimensione è quella che fa un po' d'apripista, però come si dice la mentalità vincente anche nello sport viene anche per emulazione. Quindi il fatto che noi siamo forse quelli più grandi porta anche a chi sta dietro, in senso numerico, non come ricerca e sviluppo, il nostro settore ai vertici. Perché obiettivamente abbiamo tante aziende validissime, Chimet in particolare investe su questi temi milioni di euro tutti gli anni, investe sulla sostenibilità che naturalmente da cui nasce il nostro settore, quindi la circolarità, entrano rifiuti e esce metalli preziosi. Il Rodio in Spugna trova applicazione in diversi settori come l'industria automobilistica e chimica, nelle quali viene impiegato per la sintesi di molti catalizzatori, ma anche nell'industria elettrica dei rivestimenti, della gioielleria e della strumentazione scientifica. Siamo estremamente orgogliosi e contenti di aver raggiunto questo importantissimo traguardo per l'azienda e tengo principalmente a ringraziare tutti i nostri collaboratori dei reparti analitici e delle affinazioni chimiche che grazie al loro impegno costante e quotidiano ci hanno permesso di raggiungere tale obiettivo. Abbiamo già ricevuto degli ottimi feedback da parte del mercato e proprio perché questa certificazione aiuta e contribuisce appunto lo scambio di questo metallo così importante e raro in maniera garantita e trasparente.